Il tema di oggi è la delibera sulle politiche per l'interculturalità della città di Torino in cui scriviamo e in qualche maniera deliberiamo una serie di linee guida che ci guideranno a diventare una città sempre più interculturale. La sfida infatti non è quella di attestare che siamo una realtà dove tante culture, tante lingue, tante religioni si addensano, questo è un dato di fatto. La sfida è far parlare queste lingue, queste religioni, queste culture tra di loro e provare a costruire davvero una città a misura di tutte e di tutti per il rispetto e i doveri di ciascun individuo, di qualunque fede, colore, orientamento, idea, eccetera, possa professare. L'iniziativa, una di quelle principali, è quella di costruire delle contronarrazioni, cioè smettere di pensare al migrante, alla persona che abbiamo sotto casa, come a un delinquente, come a qualcuno che ruba, come a qualcuno che fa delle altre cose perché il 90%, la grandissima maggioranza di queste persone non è così e anzi anche loro hanno paura della criminalità, del degrado, dell'insicurezza che viviamo. Attraverso questa modalità di contronarrazioni che verrà costruita con articoli, con comunicati, con un festival diffuso delle lingue e delle culture che valorizzi tutti gli eventi e tutte le iniziative delle singole realtà della città. Abbiamo iniziato col festival, c'è il festival panafricano, c'è il capodanno cinese, c'è la festa delle libertà valdesi, ma anche il Pride teoricamente può rientrare all'interno di questa narrazione e dare voce a una minoranza che normalmente non riesce ad avere voce e invece ha tantissime cose da dire proprio al servizio di tutta la città e per lo sviluppo di tutta la città. Io ringrazio davvero l'Arcivescovo per questa importantissima presa di posizione a favore delle popolazioni di etnia rom, sinti e camminanti. Il vero tema non è quello di creare delle corsie preferenziali per alcune persone, ma è rendere gli uffici, attraverso questa delibera, verrà istituita una cabina in regia, un gruppo di pilotaggio, pronti a dare risposte corrette e precise alla cittadinanza, anche spiegando perché alcune persone non hanno alcuni diritti e quali sono i doveri di tutti i cittadini, ma davvero riuscendo a portarli attraverso il lavoro che noi facciamo con i tavoli di comunità nei confronti di tutte le persone ad acquisire quel senso di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita civile di un Paese.